Con questo tutorial andiamo ad affrontare le operazioni con i numeri naturali. Le operazioni sono le solite, le quattro operazioni, addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione, e adesso andiamo a vedere quali sono i termini tecnici che utilizzeremo. Per quanto riguarda l'addizione, prendiamo questo esempio, abbiamo 3 più 4 uguale a 7. 3 e 4 vengono chiamati addendi e il risultato dell'addizione viene chiamata somma. Vediamo ora la sottrazione, ad esempio 13 meno 2 è uguale a 11. Il primo valore viene chiamato minuendo, il secondo valore sottraendo e il risultato della sottrazione si chiama differenza. Vediamo ora il prodotto, vediamo questo esempio, 5 per 9 fa 45. 5 e 9 si chiamano fattori e il risultato della moltiplicazione si chiama prodotto. Vediamo infine la divisione, 48 diviso 6 uguale a 8. Il primo numero viene chiamato dividendo, cioè colui che deve essere diviso. 6 è il divisore, cioè colui che divide, e il risultato della divisione si chiama quoziente. Facciamo ora un'osservazione sull'addizione e la moltiplicazione nei numeri naturali. Ogni volta che sommiamo due numeri naturali otteniamo sempre un numero naturale e la stessa cosa vale per la moltiplicazione, ossia se prendiamo due numeri naturali e li moltiplichiamo tra di loro, il loro prodotto è comunque un numero naturale. Questa proprietà può essere riassunta dicendo che la somma e la moltiplicazione sono delle operazioni interne nei numeri naturali. Interne vuol dire che se sommo o moltiplico due numeri naturali comunque ottengo un elemento interno all'insieme dei numeri naturali. In altre parole possiamo dire che l'insieme dei numeri naturali risulta chiuso rispetto alla somma e alla moltiplicazione, ossia ogni volta che sommo numeri naturali o li moltiplico tra di loro, quello che ottengo è sempre all'interno dell'insieme dei numeri naturali. Per quanto riguarda la sottrazione e la divisione, sono delle operazioni che agiscono in modo contrario all'addizione e alla moltiplicazione. Ad esempio la differenza tra due numeri è quel numero che, addizionato al sottraendo, dà come somma il minuendo. Vediamo questo esempio, 5 meno 1 uguale a 4. 5 è il minuendo, 1 è il sottraendo e 4 è la differenza. Se noi al sottraendo 1 aggiungiamo la differenza, otteniamo proprio il minuendo. La stessa cosa vale per il quoziente. Il quoziente tra due numeri è quel numero che, moltiplicato per il divisore, dà come prodotto il dividendo. In questo caso dobbiamo ricordare che quando dividiamo dobbiamo stare attenti che il divisore deve essere diverso da 0, cioè 8 diviso 0, 7 diviso 0, sono delle operazioni che non hanno senso. In questo esempio ho 12 diviso 3 uguale a 4. Ho il dividendo, ho il divisore ed ho il quoziente. Ora, se il divisore lo moltiplico per il quoziente, ottengo proprio il dividendo, cioè il numero che deve essere diviso. Fissiamo ora l'attenzione sul valore 0 per quanto riguarda le operazioni di addizione e sottrazione. 0 viene chiamato elemento neutro dell'addizione, perché se noi aggiungiamo 0 ad un qualsiasi numero naturale, otteniamo sempre il numero di partenza. Ad esempio, 5 più 0 è uguale a 5, oppure 0 più 7 è comunque uguale a 7. In simboli abbiamo questa proprietà, cioè n più 0 è uguale a 0 più n che è uguale a n e questa proprietà vale per qualunque numero naturale. Una proprietà analoga vale per la sottrazione, cioè se a un numero naturale togliamo 0 otteniamo sempre il numero naturale di partenza. Attenzione che non possiamo fare il contrario, cioè 0 meno 8, perché otterrei un numero non naturale. Ora, vediamo 0 riguardo la moltiplicazione e la divisione. Abbiamo detto che 0 rispetto all'addizione viene chiamato elemento neutro e 0 rispetto alla moltiplicazione viene chiamato elemento assorbente, ossia ogni numero naturale, se lo moltiplichiamo per 0, comunque otteniamo 0. Questa è la proprietà in simboli, ossia n per 0 è uguale a 0 per n, che è uguale a 0. Questo mi fa capire che qualunque moltiplicazione per 0 si ottiene sempre 0. Una proprietà analoga vale per la divisione. Se noi dividiamo 0 per un qualunque altro numero naturale che non sia 0, otteniamo sempre 0. Ad esempio qui ho 0 diviso 5 che è 0. Attenzione che se avessi scritto 0 diviso 0 avrei ottenuto una scrittura priva di senso, come, ricordo, una scrittura priva di senso è questa, 8 diviso 0. Quindi vuol dire che lo 0 in una divisione può apparire soltanto nel dividendo e mai nel divisore. Vediamo ora il numero 1. Se noi moltiplichiamo un qualunque numero naturale per 1, otteniamo il numero naturale di partenza e questo mi fa definire 1 come elemento neutro della moltiplicazione. Ad esempio se io ho 8 per 1 ottengo 8, 17 per 1 ottengo 17, ma anche 0 per 1 ottengo 0. Cioè un qualunque numero naturale moltiplicato per 1 mi dà sempre il numero naturale di partenza. La stessa cosa vale per la divisione. Cioè quando divido per 1 ottengo il numero naturale di partenza. 8 diviso 1 è proprio uguale a 8. Il numero naturale di partenza era uguale a 8. Ma anche se avessi scritto 0 diviso 1 avrei comunque ottenuto 0. Vediamo ora quali sono le proprietà che vengono verificate dalle operazioni. Iniziamo dalla proprietà commutativa. Questa proprietà viene verificata sia dall'addizione che dalla moltiplicazione. Commutare vuol dire scambiare. E quindi se vado a scrivere a più b o b più a è la stessa cosa. Ossia se io vado a addizionare 3 più 2 il risultato è proprio uguale a 2 più 3. E la stessa cosa vale per la moltiplicazione. Cioè a per b è uguale a b per a. Un esempio è questo. Cioè se io vado a fare 7 per 4 è proprio uguale a scrivere 4 per 7. Vediamo ora la proprietà associativa che viene verificata sia dall'addizione che dalla moltiplicazione. Supponiamo di avere tre numeri a più b più c. Se io vado a fare a più b e poi sommo c, quello che ottengo è uguale a fare b più c e poi c sommo a. Questo è un esempio. Se io vado a fare 5 più 9 e poi aggiungo 1, quindi 5 più 9, ottengo 14, più 1 ottengo 15. Quello che ottengo è identico a fare 9 più 1, che è 10, e poi ci aggiungo 5, che ottengo 15. La stessa cosa vale per la moltiplicazione. Se io moltiplico tre numeri, a per b per c, se vado a moltiplicare prima a per b e quello che ottengo lo moltiplico per c, il risultato è uguale a moltiplicare b per c moltiplicato dopo con a. Questo è un esempio. Se io vado a fare prima 2 per 5, che ottengo 10. Se poi moltiplico per 3, ottengo 30. Se faccio qui 3 per 5, che ottengo 15, e poi moltiplico per 2, sempre 30 ottengo. Vediamo ora la proprietà distributiva. Abbiamo due proprietà distributive. Ora vediamo la proprietà distributiva della moltiplicazione rispetto all'addizione. Vediamo subito un esempio. Se io ho 5 che moltiplica 2 più 3, posso fare 5 per 2, poi più 5 per 3. Quindi ho distribuito questo per qui e qui. Questa proprietà viene chiamata distributiva sinistra. In questo caso ho la distributiva a destra, cioè ho 4 più 5 per 2, e allora andavo a fare 4 per 2 più 5 per 2. Vediamo ora la proprietà distributiva della moltiplicazione rispetto alla sottrazione. E anche in questo caso ho una distributiva a sinistra e una distributiva a destra. Supponiamo di avere 3 che moltiplica 7 meno 1. Potrei scrivere 3 per 7, poi meno 3 per 1. E la stessa cosa, usando la distributiva a destra, lo vedo in questo esempio. Se ho 12 meno 3 per 2, potrei scrivere 12 per 2, poi meno, che è questo meno, 3 per 2. Ed infine vado a vedere la proprietà distributiva della divisione rispetto all'addizione e alla sottrazione. Supponiamo di avere 6 più 8 diviso 2. Potrei fare 6 più 8 che fa 14 diviso 2 è 7, ma potrei utilizzare la distributiva a destra e fare 6 diviso 2 più 8 diviso 2. 6 diviso 2 è pari a 3. 8 diviso 2 è uguale a 4 e poi 3 più 4, sempre 7 fa. Vediamo ora un esempio della distributiva a destra. In questo caso ho 15 meno 9 diviso 3. E quindi potrei scrivere 15 diviso 3, poi meno, che è questo meno, 9 diviso 3. E vado a scrivere 3. Vediamo ora la proprietà invariantiva della sottrazione e della divisione. Partiamo dalla proprietà invariantiva della sottrazione. La differenza tra due numeri non cambia se a ognuno si aggiunge o si toglie lo stesso numero. Vediamo subito un esempio. Ho 32 meno 4. Potrei aggiungere a questo numero e a questo numero 6. Infatti ho scritto 32 più 6 meno 4 più 6. Questo risultato è uguale a questo risultato. Vediamo quest'altro esempio. Ho 24 meno 7. Prima ho aggiunto. Stavolta voglio togliere un numero, ad esempio 4. E quindi al posto di 24 vado a scrivere 24 meno 4. E al posto di 7 vado a scrivere 7 meno 4. Il risultato di questa operazione è uguale al risultato di questa operazione. Vediamo ora la proprietà invariantiva della divisione. Il quoziente tra due numeri non cambia se ognuno viene moltiplicato o diviso per uno stesso numero diverso da 0. Vediamo subito un esempio. Ho 120 diviso 40. Potrei moltiplicare 120 e 40 per uno stesso numero, ad esempio 5. E quindi potrei andare a scrivere 120 per 5 diviso 40 per 5. La proprietà invariantiva vale non solo per la moltiplicazione ma anche per la divisione. Vediamo questo esempio. Ho 480 diviso 20. Potrei dividere questo numero e questo numero per uno stesso numero, ad esempio 2. E quindi andare a scrivere 480 diviso 2, poi diviso, che è questo diviso, 20 diviso 2. E con questo termino il tutorial sulle proprietà delle operazioni con i numeri naturali. Grazie a tutti.